Ok ragazzi, Iron Snout, e ringrazio moltissimo lo sviluppatore di avermi dato questo gioco che possiamo provare insieme adesso. Di che cosa si tratta? È un concetto semplicissimo, ovvero tu sei un maialino che si deve difendere dai lupi che cercano di attaccarlo, ok? E però attenzione, dovrebbe essere estremamente violento questo gioco, quindi al di là del... al di là dell'apparenza, d'accordo? Quindi io direi di cominciare... ma mi sa che non si usa il controller in questo gioco, vero? Ah, ok, il DLC... oh, c'è il maiale natale, c'è lo zombie, c'è questo... ah, sono tutti col DLC da sbloccare poi, va bene, stiamo semplicemente col maialino. D'accordo, proviamo a vedere di che si tratta ragazzi, Stargame, Fight Mode Classic, ok, questo... ah no, tutti da sbloccare, tutti da sbloccare. Combattiamo. Ok. Che figo, ok. No, ok. Aspetta, questo dovevo... dovevo abbassarmi per evitarla? Come funziona? No, sì, mi sa che dovevo abbassarmi per evitarla, decisamente. Ok. Oh, grazie, addio. Ma fa ridere il blu... oddio, questo con la motosega? Ma è questo, ma... Mica, è cattivissimo. Oh, ma mi scordo sempre di abbassarmi, mannaggia a me. No, che stupido, sono esploso. Niente, eh. Abbassarsi, non c'è verso, non me lo ricordo mai. È quello che è saltato... quello tipo angioletto, che diavolo era? Niente, oh, non ce la farò mai. Mi sa che sono quasi morto. Oh, oh, eh, mi sa che sono morto. Eh, sì, 32. Ah, mi sa che è una sorta di cose... infinite. Ok. Va bene. Combattiamo ancora perché mi sto divertendo. Questa... Questa, vabbè, sarà breve perché il concetto del gioco è veramente semplice. Poi si tratta di diventare un po' più bravi. Stavo... Oh, avete visto? Dopo non mi posso muovere da qua, io. Dovevo abbassarmi, non saltare. Ok, ha funzionato più o meno. Benissimo. Quello che salta così fa ridere tantissimo. Niente, quella non la riesco a schivare in nessuna maniera possibile. È così. Ah, quella l'ho schivata con... No, mannaggia a me, mannaggia a me. Ma finisce il livello? Cioè, ti dà... O va proprio... In eterno avanti così. Niente. Quella ascia lì... Io non... Non c'è verso che io la eviti, eh. Oh, oh. Eh, vabbè, questa era... Era tosta, era tosta, onestamente. Eh, niente, sono morto un'altra volta, però sono arrivato a 53. È un po' assurdo sto gioco, effettivamente. Vabbè, ragazzi, non credo che ci sia molto altro da dire di questo gioco. È veramente semplicissimo come concetto, però è piuttosto divertente. Tra l'altro, costa pochissimo, quindi... Insomma, se volete considerarlo, sappiate che è un giochino semplice, semplice, però è caruccio. Caruccio assai. Va bene, ragazzi, io direi che è tutto per questo gioco. Ora, un piccolo stacco, mi raccomando, fate il follow su Twitch se ancora non l'avete fatto, fate la sub con Prime se ce l'avete disponibile, e ci vediamo, e se siete a vedere questo video su YouTube, il gioco... Il gioco costa pochissimo, mi raccomando, se siete su YouTube, iscrivetevi e lasciate un like. D'accordo? Noi ci vediamo fra 30 secondi netti, a tra pochissimo.